ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video oggi voglio presentarvi una fragranza che è entrata a far parte della mia collezione qualche tempo fa che prima però non conoscevo non conoscevo il marchio che la che la produceva e sono contenta invece di averla scovata in una profumeria di nicchia qua vicino a casa una fragranza che fa parte appunto di una collezione forse poco conosciuta però ci tenevo a presentarvela perché secondo me è interessante così come anche qualcun'altra della stessa casa ho cambiato sfondo nel senso che preferivo qualcosa di più semplice quindi mi sono spostata in questa zona più tranquilla a livello proprio cromatico e grafico per parlarvi di questo marchio che è oliver pari a me piace tantissimo il loro simbolo che è questo pavone molto molto semplice ma lo trovo davvero elegante la scatola si apre in una maniera molto semplice quindi in questo modo e all'interno si trova la fragranza che è paradis lonten tra l'altro all'interno c'è scritto proprio tubi continui quindi una cosa particolare e carina il formato è un formato piuttosto grande 100 ml ma esiste anche il 50 ml come vedete la confezione davvero semplice ve la faccio vedere anche così vedete con la colorazione del liquido e il tappo presenta anche questo il pavone che è davvero bellissimo cosa dirvi è una fragranza nata nel 2015 dal naso del famosissimo e conosciutissimo bertrandu chafur quando l'ho saputo mi sono subito interessata tra l'altro per questa linea ha lavorato anche luca maffei che io stimo molto e ha fatto una rosa molto particolare molto interessante io devo ancora decidermi sul fatto se mi piacciono o no le rose all'interno dei profumi ma questa era davvero tanto interessante e c'è un'altra fragranza invece che non ho sentito ma di cui ho letto qualcosa che mi interessa moltissimo ed è il mio segreto quindi andrò sicuramente a sentirle se dovessi sceglierle ve ne parlerò sicuramente cosa dirvi però di questa fragranza è una fragranza che ha come note di testa il ginepro la curcuma il pepe peruviano il bergamotto e il frutto della prossima come note di cuore la cera d'api i chiodi di garofano la gardenia la tuberosa l'ilang ilang e le note marine e come note di fondo miele muschio sandalo e vaniglia cosa vi posso dire è un profumo che io trovo speziato c'è tanta spezia di tantissimi tipi diverse ma allo stesso tempo anche molto tenero c'è una gardenia bella importante ma allo stesso tempo anche sensuale esotico cioè è un profumo che ha davvero tante sfaccettature ma ben miscelate a me piace tantissimo come vi dicevo la gardenia emerge tantissimo ma anche la tuberosa in questo caso anche se non è una tuberosa importante una tuberosa che rimane bella come dire arrotondata e ben mescolata con tutto il resto è un profumo quindi caldo avvolgente rimanda davvero un po all'idea di paradisi lontani esotici di un qualcosa che è un po impalpabile è un veramente un bel miscuglio caldo avvolgente vi fa stare bene almeno a me ha questo effetto mi fa stare molto bene tra l'altro poi ci sono anche tutte queste note invece molto più calde quindi il miele la vaniglia che lo rendono anche un pochino resinoso se vogliamo quindi gli danno anche un carattere un po più materico a tutta la fragranza quindi una fragranza che comunque ha questa dolcezza ma non eccessiva questo fiorito ma non eccessivo spezie ma non eccessive è davvero un mix che mi piace tantissimo infatti quando l'ho provato in realtà non ero per niente convinta di sceglierlo perché ho pensato ci sono così tanti marchi interessanti qui non andrò di certo a sceglierne uno che non conosco aiuto cosa sarà mai eccetera eccetera in realtà provandolo è veramente eccezionale poi dal naso di Bertrand du Chafour sicuramente non ci si aspetta nulla di banale nulla di di poco valore infatti è davvero molto molto buona questa fragranza quindi questo è di tutto un po' ma di tutto un po' molto ben fatto secondo me è un profumo paradisiaco ecco tra l'altro ho altre fragranze delle quali voglio parlarvi una famosissima alcune invece di marchi che magari non si conoscono poi tanto e su qui sul canale su youtube non sono molto recensiti per cui sicuramente ve ne parlerò presto vi saluto alla prossima ciao